apriamo un nuovo servizio di weekend ed intorni oggi per la prima volta in Abruzzo abbiamo una tappa di Miss Mondo grazie alla FM di Vision e noi andiamo a scoprire queste bellezze alla ribalta per un Miss Mondo che sia tutto grippato Abruzzo con noi di weekend ed intorni che da qui cominciamo con la bellezza a girare Tania Bambaci Miss Mondo ancora in carica devo dire che è sempre un'emozione forte perché vedendo loro è come se rivedessi me le prime armi i canoni che vengono utilizzati appunto per scegliere per eleggere la ragazza che rappresenterà l'Italia nel mondo sono diversi e io credo che la cosa maggiore sia la semplicità di non demordere di continuare con la stessa tenacia di questa sera perché anche se questa selezione è passata ce ne saranno molte altre ancora più difficile con molte altre ragazze e quindi di non abbattersi mai Francesca Tartaglia, giovane e bella modella, ex modella e management favoloso con questa FM Division noi abbiamo iniziato con i concorsi di bellezza quindi abbiamo fatto un po' di concorsi diciamo minori abbiamo fatto diciamo abbiamo passato varie graduatorie e poi siamo stati diciamo tra virgolette scelti dall'organizzazione nazionale per iniziare queste selezioni e partiamo dall'Aquila appunto oggi per continuare il prossimo anno fino a maggio il 19 maggio per la precisione dove faremo appunto sempre quell'Aquila la finale regionale da marzo faremo un'altra tappa ad Avezzano o a Pescara noi appunto siamo una società organizziamo eventi di moda in particolare ma eventi in generale tra cui convegni e poi curiamo un servizio hostess appunto per convegni inaugurazioni e tutto www.fmedivision.it che in realtà è in costruzione quindi per guardarci per conoscerci per vedere i nostri lavori potete visitare la pagina facebook ma se dovessi descrivere che cos'è a tuo parere la bellezza di una Miss mondo io penso che in questo mondo la semplicità l'umiltà la strada si fa da sola buon natale a tutta Aquila cosa fa Weekend ed intorni? gira ciao Paolo Molinaro modello presentatore attore insomma che cos'è per te la bellezza di una Miss mondo? beh la bellezza di una Miss mondo è lasciarti senza respiro la donna abruzzese che rappresenti nel mondo la bellezza italiana secondo te di quale città deve essere? dell'Aquila assolutamente Antonio Sorrentino per un momento di spettacolo ma che cosa significa fare arte e spettacolo su un palco? è riuscire veramente a dare delle emozioni sia attraverso la voce che attraverso il movimento un augurio buon natale buon anno e felice anno nuovo Weekend ed intorni sai cosa fa? gira Miss mondo Italia per l'Abruzzo è Eleonora Diretta e tutti volevano Miss mondo e noi abbiamo preso la vincitrice la prima classificata la sensazione è bellissima poi a tutte quelle che vogliono partecipare dico provateci perché come meglio sono arrivata da qua senza aspettative eccomi qua ti auguro tanto così belli e spero che tu possa arrivare in alto auguri veramente a tutti di buon natale e buone fette noi con questo artista performer e con tutto questo staff di FM e di Vision che ringraziamo per questa tappa di Miss mondo in Abruzzo per aver portato queste bellezze nella nostra regione concludiamo questo servizio di Weekend ed intorni che per tutti quanti voi nelle bellezze della nostra Italia continua a girare perché noi per voi non ci perdiamo mai Grazie a tutti